Buonasera, bentrovati, nuovo appuntamento con Topic. Torniamo a parlare di sicurezza all'interno dei posti di lavoro. Perché? Perché siamo spinti da una notizia che campeggia un po' su tutti i siti che parla di una decisione molto importante, quella di vietare il lavoro dalle 12 alle 16 per chi sta all'aperto sotto il sole. E vi dico che sono veramente tante le persone che lavorano sotto il sole, nell'agricoltura, nei cantieri, insomma i rider per strada, sulle spiagge, coloro che fanno i bagnini, insomma tante figure professionali che chiaramente meritavano una particolare attenzione. E questa particolare attenzione arriva oggi. Il che ci dice che ci sono delle nuove indicazioni sul testo per lo shock termico. Ora il problema sarà capire se la burocrazia riuscirà ad adattarsi prima possibile. Voi sapete, perché noi come Corona che raccontiamo, purtroppo quotidianamente la scomparsa di tante persone che la mattina escono per andare a lavoro e poi la sera non tornano a casa. Tanti queste le definiscono morti bianche. Io voglio andare oltre, le definisco morti nere, perché non è concepibile, non è accettabile, tollerabile che una persona che va a lavorare rischia la vita, lascia la propria famiglia e non torna più. È come un incidente stradale. Non rivedi più il tuo caro. E qui bisogna chiaramente porre rimedio. Questo per quanto riguarda i famosi cantieri, la sicurezza nelle attività a rischio, nelle fabbriche, nelle industrie. Insomma, particolare attenzione per tutelare la vita di coloro che lavorano. E allora, questa notizia che io voglio evidenziare, non deve passare sotto traccia. È molto importante che vede uniti anche i sindacati, la triplice, CISL, CGL e UIL, tutti d'accordo sul fatto che bisogna bloccare il lavoro in virtù del fatto che in Sicilia, lo ricorderete l'estate scorsa, ma già le premesse ci sono tutte, oltre 35 gradi in tante zone della città, si arriva anche a 40 sulle arterie principali, sulle autostrade. Immaginatevi di lavorare in cantieri, in autostrade, in strade, sotto queste temperature. Non bastano i cappelli, non basta idratarsi, qui veramente si rischia l'insolazione. Allora, per prevenire ed evitare che ci siano le morti bianconere, direi, non bianche ma nere, e non voglio ironizzare perché ritengo che veramente coloro che perdono la vita sono morti che non si possono definire con un colore. Bisogna solo prevenire. Perché vedete, se ci sono dei delinquenti che sparano la criminalità organizzata che fa vittime, lì sono della mafia, della criminalità, e quindi sono nere, bene, sono morti, sono persone strappate alla propria vita con violenza, questo accade. Ma qui non si tratta di violenza, qua si tratta di non cura, di incapacità, di leggerezza, di non valutare il rischio. Perché vedete, spesso accade che la gente perde la vita perché c'è troppa sicurezza. Questo abbiamo raccontato in diversi appuntamenti. troppa sicurezza di sé, si sottovaluta il rischio e quindi poi ci si lascia la vita. Attenzione, può accadere anche con una macchina, un'automobile, alzando una macchina per cambiare un copertone, una ruota, con un cric che cade, con un cric non posizionato bene, oppure perché nella macchina non viene azionato il freno a mano, è successo in passato, anche incidenti. In camion ci si dimentica di chiudere i portelloni o di assicurare la merce bene, oppure delle gru col vento non fissate bene, che cadono e travolgono. Sto facendo degli esempi per ricordare un po' a tutti coloro che mi seguono. Anche le tettoie, le tettoie di strutture importanti. Ultimamente abbiamo ricordato, per esempio, un grande sportivo che è crollato perché è andato sul tetto a cercare di riparare un problema. Parlo di Scuderi, Francesco Scuderi, ricordato da tutti nello sport. Ma ci sono tante persone che hanno perso la vita per la negligenza, per l'incapacità che spesso è dettata dai facili guadagni. Bisogna anche dire, perché vedete, quando un'azienda decide di non attrezzare i propri operai con elmetti, con sistemi di sicurezza per abbattere i costi o perché degli operai pensano che sono dei superman e fanno delle cose inaccettabili, poi accade questo. E allora, per evitare, come suol dire, le cosiddette lacrime di coccodrillo da parte anche, purtroppo, delle istituzioni, allora attuate subito le disposizioni. e questa di oggi va in questa direzione. Intanto tuteliamo tutti coloro che lavorano all'esterno e che non hanno protezione. E come detto, in Sicilia sono una moltitudine, non sono pochi. Perché uno può anche sottovalutare, per esempio, il fatto che vai sulle spiagge, la gente sulle spiagge, agli ombrelloni, i bagnini o coloro che sono preposti al controllo, anche le forze dell'ordine. Attenzione, non possiamo sospendere il servizio delle forze dell'ordine, ma anche loro rischiano. Perché anche loro spesso stanno sotto il sole. I vigili, urmani, insomma, bisogna, con discrezione e con la giusta determinazione, evitare che tutti possano incorrere a problemi di insolazione. Attenzione, dalle 12 alle 16 è il momento clou del caldo che c'è a Tanaglia. Voi sapete, lo dicono anche le mamme, per gli anziani, evitare l'esposizione al sole, perché quando picchia diventa veramente forte. E allora, questo è importante. Ora aspettiamo, come detto, che il governo legiferi legiferi è che prossimamente questo protocollo d'intesa tra i sindacati e le forze presenti in Sicilia possano attuare diciamo questo tipo di prevenzione. Dalle 12 alle 16 non si lavora se si fanno lavori esterni. Queste sono le disposizioni. Aspettatevi, quindi prossimamente, mi auguro prima dell'estate, prima che eventualmente come sempre ci scappi il morto. 12-16 non si lavora all'esterno. Se c'è l'aria condizionata, se si è dentro gli uffici e se si è protetti allora è un altro conto. Questo è un argomento che ho voluto trattare con sol dire last minutes perché è una notizia degli ultimi minuti e siamo particolarmente contenti che finalmente si muova il buonsenso. Questa è una risposta chiara per prevenire le morti bianche che io battezzo in morti nere. Grazie per aver seguito questo spazio di approfondimento. Come sempre vi ricordo le nostre coordinate per raggiungerci redazione chiocciola spazionotizia.it e poi il nostro numero telefonico 379 2 24 24 20 Grazie e arrivederci a Grazie a tutti.